Le elezioni comunali appena passate che a Teramo hanno riportato alla riconferma di D'Alberto fanno tornare sul tavolo amministrativo la questione della location del nuovo ospedale, questo anche alla luce delle dichiarazioni fatte da D'Alberto durante la campagna elettorale. Il comitato nuovo ospedale Mazzini che da anni porta avanti l'idea di riqualificazione dell'attuale nosocomio e contraria alla sua realizzazione in una nuova location chiede anche alla luce della tragedia in Emilia Romagna di rivedere l'idea di voler collocare secondo i piani di Asl, Teramo e Regione il nuovo ospedale presso il sito di Pianodaccio in un'area ridosso del fiume Tordino. Siccome c'è stata una delibera da parte della giunta regionale per l'approvazione di un studio di fattibilità per Pianodaccio che noi riteniamo assolutamente inadeguato e anche illegittimo perché è in contrasto con una delibera consigliare la quale prevedeva una comparazione e uno studio fra tutti e cinque i siti. Quindi fatto su uno noi riteniamo che fosse stata assolutamente una cosa che non poteva essere, non doveva essere. Questa cosa noi l'abbiamo più volte sottolineata e nel corso dell'incontro con i sindaci questo argomento è ritornato di moda diciamo. Nel senso noi abbiamo detto ai sindaci che quella delibere andrebbe annullata per fare uno studio di comparazione su tutti i cinque siti per poi fare una valutazione da parte del Consiglio Comunale che è l'organo competente in materia urbanistica e non può essere la ASR o la Regione Abruzio che di questa cosa perché è una competenza esclusiva e quindi non è che può riguardare altri organi al di fuori del Consiglio Comunale. Per questo motivo se non arriveranno le risposte da parte del riconfermato sindaco il comitato ha annunciato di proseguire la propria battaglia sociale. Noi assolutamente riteniamo che il sindaco faccia proprio questa cosa perché lo ha ripetuto più volte, lo ha sottolineato e quindi riteniamo che ne prenda atto per poi avanzare una richiesta formale alla Regione Abruzio affinché non tenesse conto più di questa volontà da parte della ASR di fare uno studio solo e esclusivamente per il piano d'accio ma cercare di rispettare il dettato del Consiglio Comunale.